Termina 2-2 la sfida di liberazione tra Omenia e Dufruvarallo, un apareggio che tutto sommato sta stretto ai rossoneri che hanno avuto tre grandi occasioni per vincere la partita. Nei primi 24 minuti non succede nulla ma la prima occasione al 24esimo Lomenia passa, spunto di Scavazza, palla in mezzo per Cabrini che apre l'interno del piede e porta in vantaggio i suoi. Palla al centro, i rossoneri la recuperano e trova il raddoppio, la perla è di Erbetta che stoppa al limite dell'area e si inventa un destro a giro che si infila sotto l'incrocio dei pali. La Dufru raccorce le distanze al 37esimo alla prima vera chance costruita, in bucata centrale Casella si inserisce e fredda di sinistro Chiaverini. Partita stranissima al 41esimo, errore di Accomazzo, Chiaverini salva la disperata su Chieppa. Sul successivo corner però Chiaverini sbaglia i tempi dell'uscita e di testa lo stesso Chieppa fa 2-2. Al 46esimo, Omenia vicinissima al nuovo vantaggio, colpo di testa di Cabrini, un avversario salva sulla linea. Nel secondo tempo al quinto Schalz, colossale per Erbetta, lanciato da Cabrini, l'ex Baveno arriva a tu per tu con l'estremo difensore ospite ma si fa ipnotizzare da Pedrina. Ancora Omenia vicinissima al 3-2, al 33esimo, angolo di Puzzello dalla destra, Cabrini tutto solo nell'area piccola di testa, mette incredibilmente a lato. Al 37esimo però è la Dufour che ha di che ricreminare sinistro da fuori area di Mangolini e clamoroso palo a Chiaverini battuto.